Inaugurato il 43esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Bergamo alla cerimonia organizzata presso il Teatro Donizetti ospite d'onore tra le numerose autorità presenti il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata L'Università di Bergamo è una università modello nel suo percorso di internazionalizzazione di questi ultimi anni già da tempo è un percorso che ha seguito ma sotto la guida del Rettore Magnifico Professor Paleari mi sembra che ci sia stata un'accelerazione notevolissima in questo senso il grado, il livello, il numero degli studenti stranieri che partecipano all'Università l'insegnamento nei double degree che ha avviato il senso anche di poter accedere a un'internazionalizzazione veramente dell'insegnamento attraverso i programmi di Master è estremamente significativo ecco a me fa piacere che l'Università a Bergamo si inserisce in un contesto che è molto avanzato sotto il piano della collaborazione sempre più stretta fra scienza e impresa le esperienze che abbiamo di Bergamo Scienza del chilometro rosso dell'attività di ricerca e di innovazione svolta dal mondo imprenditoriale danno a questa sinergia fra mondo economico e società civile a Bergamo e Università corpo insegnanti, ricercatori, studenti una forza molto particolare quindi credo che Bergamo in questo senso rappresenti una città di grandissima rilevanza e proprio in questo senso una città campione per il nostro paese quindi sono molto lieto di essere qui rapporto giovani politica è il futuro della politica quella della componente dei giovani ho incontrato proprio in Piazza Vecchia un momento fa in un passaggio che ho avuto per ammirare prima di immergermi nella dimensione universitaria in questo splendido teatro Donizetti ho incontrato proprio un rappresentante di una grande organizzazione politica giovanile che mi raccontava di aver avuto un incarico a livello internazionale proprio domani di partecipare alla giornata della Confindustria ecco per me è stato un po' un incontro simbolico per vedere quanto vitale sia la motivazione e la partecipazione dei giovani e l'università in questo senso è un elemento anche di preparazione della politica deve essere così deve essere sui valori forti del nostro paese sulla scommessa sul futuro della nostra società ringrazia le istituzioni presenti in primis il Ministro Terzi il Rettore dell'Ateneo Bergamasco Stefano Paleari siamo molto lieti di questa presenza è un ringraziamento che voglio fare davvero di cuore al Ministro degli Affari Esteri tra l'altro un bergamasco che viene a inaugurare un anno accademico di un'università che punta molto sull'internazionalizzazione e quindi più di così e meglio di così non potevamo desiderare durante la cerimonia il Rettore ha lanciato il progetto 2035 la città di un mondo nuovo uno studio con il quale si mira ad analizzare le tendenze future per pensare oggi quello che si vuole realizzare domani il progetto sostenuto dalla Fondazione Italcementi verrà presentato nei prossimi giorni nel suo discorso Paleari ha tracciato i traguardi raggiunti dall'Ateneo l'adozione di un nuovo statuto tre lauree magistrali in lingua inglese il nuovo corso in filosofia il consolidarsi delle relazioni sul territorio e all'estero e il sostegno dell'attività di ricerca grazie a tutti